Ma ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Oggi siamo qui dopo una settimana su Brawl Stars Per andare a reagire a questa nuova stagione che ancora non ho visto Come potete vedere in basso a sinistra pro il passo nuova stagione E andiamo subito Oh eccola qui la nuova stagione con Dynamite Facchino alla prima soglia Soglia 30 Lu il nuovo brawler cromatico E infine alla soglia 70 La skin di Re Lu Ragazzi abbiamo anche le missioni qua Quindi io direi di andare a fare qualche missione Per prendere i primi gettoncini E poi andremo ad aprire queste casse Ok siamo qui con la prima partita Ragazzi io sta cosa delle mappe Molto spesso escono mappe Che sono veramente brutte E a me non piacciono E quindi Molto spesso perdo Perché sono alcune anche fatte male Non capisco come facciano a vincere Però Ok questa diciamo è carina Però secondo me non è una mappa da giocare Perché come potete vedere ai bordi Cioè è molto molto stretta Infatti ai bordi Almeno 2-3 spazi Non possono essere Non ci possiamo Passare Che sono bloccati E diciamo che Non lo so non mi piace tanto No è morto No è morto Ok Potremmo anche vincere Se provo ad utilizzare No no non posso morire Ok ok rimaniamo qua Rimaniamo qua 3 secondi E io me ne scappo Ok Ok Prima partita Ce la siamo portata a casa Infatti ragazzi Mi sono appena accorto Che quello era un test Della mappa Quindi direi Di andare subito Con un'altra partita Allora Siamo qui adesso Con la terza partita Di Raffa Gem Per oggi Allora Tu vacci a morire Molto buono Mettiamo la ulti qua E sicuramente Uscirà il bull Dalla Eh lo sape Eh lo Bull Grazie bull No ragazzi No 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 Meno male Che questi Sono scarsi Meno male Che questi Sono scarsi Però io così Vado a morire Ok No non è vero Che sono morto Ah peccato Ok lui è morto Molto buono Quindi Andrei ad uccidere lui Buono Così ragazzi Conta alla rovescia Ok Anche questa partita Ce la siamo portata a casa Molto Molto Siamo finalmente Con l'ultima partita Vediamo un po' Come ce la capiamo In questa Eh vabbè Già c'è la piper Che mi distrugge Però è morta Però è morta La piper Molto buono Eh Sono morto anche io Muoviti Ragazzi la piper Fa dei colpi Dalla distanza Mi sta distruggendo Eh ma dai Ma era scontato Che faceva quello Pure te Ok Piper ammazzata Il gelindo Era quasi morto Però L'hanno fatto fuori Meno male Ok Piper andata Ok Due kill Buono così Ragazzi Che azioncina Che ho fatto qui Ok abbiamo tutte le gemme Quindi io direi di andarcene Però la piper me l'ammazzo Buono Questo dovrei ucciderlo L'hanno ucciso Buono così Cinque secondi E ce la portiamo a casa Anche questa Buono Buono Buttiamo la volta In casa A casa Ci siamo portati Questa vittoria E dovremmo anche Avere fatto due missioni Se non sbaglio Molto Buono Molto Molto Buono Allora 240 gettoni Per noi Attenzione Già 4 soglie Quindi abbiamo le prime 10 gemme Che Sì Le gemme Gratis Non si buttano Mai E direi che è arrivato il momento Abbiamo queste 8 casse enormi Della scorsa season Partiamo subito Con la prima Ecco qui L'apri Proprio lei 68 3 skip Purtroppo niente Troppo oro Andiamo con un'altra 39 39 Non so se c'è lo skip luminoso Non c'è Non c'è Andiamo con Un'altra Cassa enorme 64 Neanche qua Lo skip luminoso Male 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 Direi Altra Cassa enorme Dai Almeno Aspetta che gadget Mi manca Non lo so Dopo questa Sì 98 Vado a controllare Vado a controllare Ok ragazzi Se la probabilità Di trovare gadget È il 2% E quindi Diciamo che Se la probabilità Di trovare gadget Come avete visto prima È del 2% Mi manca solo Il nuovo gadget Di Brock E quello Di il primo Che direi Per abbassare La probabilità Che io Io me lo vado A prendere Così ce lo siamo Levato Continuiamo Ad aprire Le casse enorme Niente neanche qua Aprimi E eccola Niente neanche qua Niente neanche qua Ultima Cassa enorme Niente neanche qua Va bene Va bene Torniamo alla stagione attuale Come potete vedere Questa È la schermata Su cui Fra un po' Andrò a premere Fra un po' Di giorni Andrò a premere Il bottone Con scritto 169 gemme Quindi Rimanete Aggiornati Se volete vedere La scioppata Del Brawl Pass Quindi io direi Che Per oggi è tutto Per questo video È tutto E vi ricordo Like, iscrizione E campbellino Bella